Cinque ore con i cinque, l'ha scritto Fidel Castro su un sito governativo, un articolo corredato di foto dell'incontro tra l'ex leader cubano e i cinque agenti dei servizi della Havana liberati dagli Stati Uniti dopo una lunga detenzione. Lo scambio con alcuni statunitensi detenuti a Cuba era avvenuto in dicembre.